La Costituzione non è un optional, noi abbiamo una delle Costituzioni più belle del mondo, secondo me la più bella, nata dalla resistenza al nazifascismo, nella Costituzione stanno scritti e scolpiti grazie a chi è morto per noi, chi si è fatto incarcerare per noi, chi si è fatto torturare per noi i partigiani, che avevano orientamenti politici molto diversi tra di loro, ma uniti contro il nazismo e il fascismo. Nella Costituzione sta scritto che non puoi fare l'anagrafe degli immigrati, non puoi fare l'anagrafe censimento ai fini di deportazioni dei Rom, domani quale sarà il prossimo editto salviniano? Gli ebrei, gli omosessuali, mi ricordano pensieri e azioni del Novecento, quello che pensava Hitler e quello che pensava Mussolini. Purtroppo questo fa il ministro dell'interno della Repubblica italiana, ha giurato sulla Costituzione, il giuramento è un valore, non è la presa in giro, quindi Salvini cominciasse a affrontare seriamente i problemi, i problemi dell'integrazione, della sicurezza, della lotta alla corruzione e della lotta alle mafie, altrimenti violare la Costituzione diventa un crimine. Qua non è più un atteggiamento politico. Se si dice quella frase, i Rom italiani purtroppo ce li possiamo tenere, ma che vogliamo costruire nel nostro paese? Vogliamo costruire l'Italia dell'odio? O l'Italia che ritrova la sua bellezza, la sua coesione, i suoi valori, il suo cuore grande, la sua forza nei confronti di un'Europa ingiusta, questo sì, di un'Europa diseguale, che è ingiusta e diseguale purtroppo anche grazie a Salvini, che è un uomo del sistema, che governa da tanti anni e che evidentemente adesso stiamo capendo bene come si è costruito la sua fortuna politica, ma sui valori della Costituzione non passerà. Questo sia ben chiaro il messaggio. Se lui vuole alzare il tiro noi siamo già sulle barricate.